ciao a tutti e benvenuti sul canale obiettesti io sono Carmelo come avete visto dalla miniatura oggi vi porto la realizzazione di questo simpatico originale porta candele con alberello è un progetto che ho visto qua su youtube realizzato da un altro youtube circa tre anni fa poi ho cercato di vedere se altre persone l'avrebbero altri maker l'hanno riprodotto e ho visto che non ho trovato niente di questo diciamo di questo progetto replicato da altri quindi ho deciso di farlo appunto per non essere ripetitivo se in caso c'erano altri che l'hanno fatto e per non ripetere sempre le stesse cose che hanno fatto altri ecco magari l'hanno fatto in dieci persone io vado a rifare la stessa cosa l'ha fatto una sola persona tre anni fa e quindi ho deciso di replicare il progetto è un progetto carino e originale non so perché non è stato replicato perché secondo me è una bella idea regalo magari l'hanno replicato l'hanno fatto però non l'hanno pubblicato video non hanno pubblicato foto perché io non l'ho trovato se qualcuno di voi magari l'ha realizzato e ho trovato trova qualcosa di simbolo uguale me lo faccia sapere perché io non sono riuscito a trovare altri 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 progetti uguali a questo prima di lasciarvi al video vi chiedo di iscrivervi al canale e lasciare un like se il video vi piace e di cliccare sulla campanellina per rimanere sempre di un nuovo video che farò ora vi lascio al video della realizzazione di questo portacandele e ci vediamo dopo per le conclusioni iscriviti al canale 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 iscriviti al canale